Se il centrodestra si presenta unito alle elezioni del 25 settembre, due sono oggi i possibili ostacoli sulla strada che lo separa da Palazzo Chigi. Il primo è la reazione dei suoi elettori tradizionali alla crisi di governo. Quella di importanti ministri e parlamentari di Forza Italia la stiamo vedendo, abbandonano il partito e la coalizione, accusandoli di aver fatto cadere l'esecutivo guidato dall'italiano più apprezzato nel mondo. La domanda quindi è quanti la pensano come loro? Ci sono italiani di centrodestra pronti a voltare la faccia ai partiti che hanno votato sinora perché li ritengono colpevoli di draghicidio. Il secondo ostacolo è rappresentato dal raggruppamento nel quale dovrebbero entrare quegli stessi illustri fuoriusciti e che pare destinato ad allearsi col PD. Quanti voti può togliere questo ipotetico «fronte repubblicano» alla coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? La risposta a quest'ultima domanda dovrà attendere perché il progetto figlio della diaspora è ancora molto confuso, finché non si capisce chi si candida con chi, è impossibile chiedere agli italiani cosa ne pensano. Ieri, però, è uscita una risposta alla domanda iniziale, i primi sondaggi sulle intenzioni di voto realizzati dopo le dimissioni di Mario Draghi e lo scioglimento delle camere da parte di Sergio Mattarella. E lì dentro c'è una buona notizia per il centro-destra. Nulla è cambiato, la coalizione è ancora ampiamente avanti. Secondo la rilevazione dell'Istituto Quorum, Utrend, diffusa, da Sky TG24, FDI, Lega e Forza Italia, insieme, raggiungono il 45,5% delle intenzioni di voto. Mentre la più efficace delle coalizioni che può costruire il PD quella che tiene dentro Renzi, Calenda, Di Maio e le sigle di sinistra, non va a oltre il 36,3%. Un distacco che dovrebbe bastare, grazie all'effetto maggioritario garantito dai collegi uninominali di Camera e Senato, ad ottenere più della metà degli eletti in ambi due i rami del Parlamento, e dunque la possibilità di governare. Gli indecisi e coloro che pensano di astenersi sono tanti, pari al 41,7%, segno che molto può ancora cambiare tra coloro che hanno risposto, però, il 23,8% ha detto che intende mettere la croce sul simbolo di Fratelli d'Italia, che si conferma così il primo partito. Seguono il PD col 22,5%, la Lega col 13,4%, ciò che resta dei 5 stelle, che tornano ad avere percentuali ad una cifra, 9,8%, e Forza Italia, con l 8,3%. Benino, ma non eccezionale, Carlo Calenda con azione che assieme a più Europa arriva al 4,9%. Numeri simili li ha diffusi ieri sera il Tg di La 7, dando conto della rilevazione fatta dall'Istituto SWG, anch'essa realizzata dopo la crisi di governo. Secondo questo sondaggio, FD è il primo partito con la percentuale record del 25%, più 1,2%, e aumenta il distacco dal PD, 23,2%, in crescita dell'1,1%. Aggiungendo il 12,4% della Lega, in calo dell'1,6%, il 7,1% di Forza Italia, meno 0,3%, e l1% di noi con l'Italia, il partitino di Maurizio Lupi, il centro-destra arriva sempre al 45,5%. Tutto questo mentre l'opinione degli elettori nei confronti di Draghi resta positiva, come certifica ancora l'Istituto Quorum, Utrend, il 57,5% ha un giudizio, molto o abbastanza positivo, sull'operato del suo esecutivo. Cosa è successo? Semplicemente che gli italiani addebitano ad altri, e non al centro-destra, la responsabilità della crisi di governo, per il 41,1%, essa appartiene a Conte per il 9,5%, lo stesso Draghi, per il 7,7% a Salvini e per il 7% a Di Maio. Solo il 3,7% indica Berlusconi. Se Enrico Letta e i suoi vogliono fare campagna elettorale accusando gli avversari di draghicidio, nella speranza di convincere gli italiani di centro-destra a cambiare affiliazione, avranno parecchio da faticare. Lo stesso segretario del PD, peraltro, esce mal ridotto dalle risposte alla domanda quanto si fida di questi esponenti politici? Dietro agli inevitabili Mattarella e Draghi, che grazie al loro ruolo istituzionale hanno la fiducia, rispettivamente, del 64% e del 54% degli italiani, il primo nome è quello della Meloni, contro la quale Letta sta conducendo tutta la propria campagna elettorale. La presidente di EFDI riscuote, molta o abbastanza fiducia, nel 38,7% degli italiani, che per un leader di partito, come tale divisivo, è una percentuale alta, e il divario dall'oste soletta è ampio, visto che affidarsi di lui è solo il 25%. In mezzo ai due ci sono Berlusconi, di cui si fida il 34,3% degli interpellati, Conte 30,7%, e Salvini, 30,4%. Anche sotto l'aspetto della sfida diretta, quindi, la strada che attende il segretario del PD appare in salita.